Ecco un braccio di ferro che fa l'imitazione di Broglie Non riesco a fare l'occhio lì Ora vi faccio l'imitazione di John Wayne Ehi tu Pellegrino, sono John Wayne E niente E da nulla Popeye Che arringa perché vieni in avanti un po' con la testa E' un po' timido No, no Cosa succede quando mangi i spinaci scaduti? Oh mio figlio, se ci vuoi fare il gatto Ok, adesso facciamo un video Vabbè, l'ultimo se fermo adesso Perché queste qua non sono cose normali, sono cicche Sono tipo tif-tac-cic E sono un po' qua dentro Non so f***** Non so f***** no hai vato no 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 oh mio dio sto cadendo sto cadendo sto cadendo sto cadendo sto cadendo ah sono le mie sto sto fulgando ah 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 una roba cosa schifo passa su schifo sono mie no me l'ho fregata guarda chi c'è dietro di te guarda chi c'è eccolo la zucca rossa arancione quella vai sinistra 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 l'ora che faccio vedere questo strumento molto importante nella mia vita l'ho rotto niente ecco succede questo alle 11 ecco perché non invitiamo mai nessuno perché sono il nostro i momenti poi voglio vedere il video dove cado fammelo vedere non so quanto ci mette a se vuoi vorrà 5 minuti sono tutto carasso eh non so quanto ci mette a